Oggi Direzione Nazionale per parlare di legge elettorale, quali sono i punti principali su cui una legge può essere approvata da tutto il PD? È un sistema maggioritario a doppio turno con un correttivo proporzionale. Il cittadino esprime un voto solo per il candidato nel collegio nominale nella quota proporzionale e in una quota nazionale che sarebbe il diritto di tribuna. Creare una proposta ex novo che invece che ripristinare una legge esistente è un altro punto a favore del disegno del PD per l'alternativa? Sì, anche perché questa è la posizione politica attorno alla quale il PD lavora da tempo, quindi è arrivato il momento di fare chiarezza. Al Senato ci sono 32 proposte di legge presentate in discussione, 17 sono firmate da deputati, da senatori del PD. Quindi è arrivato il tempo di fare un po' di ordine e di avere meno confusione. La legge elettorale con i presupposti che prima ha illustrato indirizza e influenza anche il modello di partito? Sì, soprattutto stabilisce che ci deve essere un partito e che il partito torna ad essere il soggetto della politica nazionale. Questa riforma elettorale verrà proposta anche alle opposizioni? Sicuramente viene presentata al Parlamento, quindi la discussione avviene con tutti. Intendevo, diciamo, in una fase preliminare? Si è già discusso in una fase preliminare con le opposizioni e sicuramente ci saranno altri incontri.